Abbiamo dovuto procedere allo sgombero, purtroppo non avevamo alternative, c'è una sentenza del Tribunale, c'è un'indagine della Corte dei Conti, complessivamente stimiamo 140 locali di custodi, non soltanto delle scuole, ma la maggior parte sono le scuole, di cui una metà circa sono ex custodi o parenti che sono lì da molti anni, ma più della metà sono totalmente abusivi, sono circa 4 milioni e 300 mila Euro di morosità, quindi c'è anche una questione erariale evidente, terremo grande attenzione alle situazioni sociali, quelle più difficili, quelle più complicate e quindi daremo priorità invece alle situazioni nelle quali vediamo, avvertiamo che c'è la possibilità per le persone di poter provvedere al loro futuro. In molti casi si tratta anche di far tornare alle scuole dei locali che sono necessari per la formazione e per l'istruzione. Certo, l'attenzione sociale non manca e non è mai mancata a questa amministrazione, ma anche la legalità va rispettata.